Piero Gipardo e Stefano Nava vi danno il benvenuto a questo nuovo incontro valido per i gironi di Coppa Prontissimi per iniziare, la tensione inizia a farsi sentire Comincia così la partita Vediamo come scendono in campo i padroni di casa L'allenatore ha scelto il 4-3-3 con le due ali a supporto della prima punta Boyle e Zen Quasi Eriksen Joao Mutinio Cedric Vierigna André André Occhio al cross E c'è il gol, palla in rete Splendido questo colpo di testa Stefano Sì, ha impattato alla perfezione, non ha lasciato scampa al portiere Perentorio nel suo colpo di testa La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione Hanno aperto le barcature con questo gol, 1-0 André André La mette in mezzo Allontanano il pericolo André Gomez Quas Vierigna Attenzione C'è l'intervento di pugno Per questo fallo l'arbitro ferma il gioco Ottimo intervento nel portiere C'è il rilancio lungo Trova il portiere Dice di no Palla in out Sarac Corner Vierigna Crondeli Vada indietro al compagno Ha spazio per tirare Nessun problema per il portiere Ha dovuto fare un passo in più Sistemarsi la palla sul suo piede naturale Cedric João Moutinho Vierigna Attenzione al cross Cristiano Ronaldo Conclusione senza angolo Il portiere rimane fermo e recupera il pallone Quas Prova il cross Difensore blocca bene il cross André Gomez João Moutinho Intercettano bene il pallone E provano a ripartire Si contenta Fischia l'arbitro Punizione Suao Moutinho Strappano il pallone agli avversari André Gomez Vierigna Occhio attraversone Un'entrata decisa e efficace La spazza via Palla che finisce fuori Palla che finisce fuori Contrao Pallone profondo per Cristiano Ronaldo A me prova a dare Pallone sul palo Pallone sul palo Pallone sul palo Cross Cross che va a vuoto Palla alla difesa Cristiano Ronaldo Eriksen Eriksen Crondeli Ottimo tiki-taka Ruba palla bene sulla fascia Colpisce di testa Riffinge il pallone di pugno E sarà a calcio d'angolo Portiere sicuro Sulla traiettoria André André Cedric Vierigna Palla lunga per Cristiano Ronaldo Tackle bellissimo Preciso Efficace Quas Saranno due minuti di recupero Come indica il quarto uomo Contrao Apre bene di testa Trova il compagno L'arbitro manda a tutti Occhio perché ci sarà una sostituzione Comincia la seconda frazione di gara Cross Cross Pericolo L'arbitro manda a tutti Bright 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 Palla recuperata facilmente dalla difesa Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Il primo tempo incoraggiante il suo Giocato su livelli interessanti Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti Controllano molto bene il possesso del pallone E l'arbitro Dice che è calcio di rigore Direttore di gara Che indica il dischetto Ed estrae il cartellino rosso Non ci sono dubbi su questa decisione Intervento in scivolata Ma prende nettamente le gambe dell'avversario E non il pallone Il replay come vedete Evidenzia l'intervento falloso in scivolata Deve frenare la sua erroenza Sostituzione in arrivo Niente da fare per il portiere Non ha avuto problemi Ha superato il portiere dal dischetto Cristiano Ronaldo ha battuto il portiere con una conclusione imparata Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0 Gioao Moutinho Hanno perso palo Eriksen Occhio al tocco Gioao Moutinho Palla che finisce sul palo Ed entra in rete Gol È una bella doppietta Ma troppo spazio Troppo passivo l'atteggiamento della difesa È una gara a senso unico questa ormai Boidesen Krondeli Hager Bright White I padroni di casa si preparano al cambio E si perde Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione Occorre Krondeli Ericsson Contrasto rubido Vigoroso Gioao Moutinho Cristiano Ronaldo Palla che finisce in out Eriksen Oivirk Un'entrata decisa e efficace Bright White Splendido anche in questo contrasto Un allenatore della squadra di casa Sta per effettuare cambi Per la sua formazione E secondo me È una scelta giusta È un momento giusto Piero Prova la botta Tira il respinto dal difensore Palla che viene rinanciata in avanti Portiere che blocca il tiro Bravo qui Ha un'autostrada a disposizione Strappano il pallone agli avversari Daniel Carrizzo Joao Mario Perdono palla dopo l'intervento di un difensore Si riprenderà con un fallo laterale Chane Geirinha Joao Mario Astazio prova, attenzione ecco il gol un gol che non cambia la sostanza di questo match sì ma le squadre come questa hanno sempre fame di gol e continuano a spingere fino alla fine la regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione grande coordinazione, grande traiettoria, si è insaccato sotto la traversa una partita a senso unico, 4 a 0 per loro Agger João Mario, alla lunga perfezione Ronaldo, prova il portiere, dice di no siamo sul punto di battuta del calcio in angolo João Moutinho, ferma l'azione d'attacco dagli avversari ecco il fisco dell'arbitro, non c'è stata storia, 4 a 0 occhio a cross niente da fare occhio al tocco interessante João Moutinho, palla che finisce su... grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.